Ciao a tutti ragazzi, ho avuto il prossimo video Lo so quello che state vedendo, però Se c'è un casino, quando stavo appena Tornando in questo mondo Ho visto un creeper Dietro la porta Che c'era uno specchio C'era uno specchio C'era uno specchio Uno specchio bello grosso E Creeper, mi ha visto E' esploso tutto Questa qui non mi ha fatto vedere Perché mi sono inghiavolato Adesso proviamo a prendere tutto Perché adesso siamo in creativa per fare tutto da capo Allora, prima di tutto Prendiamo queste cose a posto Non dobbiamo mai parlare niente C'è un po' di paziente E' tutto pieno Eh, se mi state chiedendo queste cose L'ho presa con duro lavoro Molto duro lavoro Vabbè, facciamo una cosa Chi se ne frega Mamma mia, che casino Proprio esploso una bomba Era a tre piani Allora, iniziamo Non a qua non finiamo mai Allora Per copia ad un creeper 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 Maledetto Adesso devo mettere tutto a posto C'erano delle scale Qua non l'hanno tolto C'è una cosa Mi è venuta un'idea Sì, mi è venuta un'idea Stato qua, mettiamo un po' a posto A posto, a posto Ecco Deve restare uno spazio Intanto qua non serve Quindi, diciamo, così Vabbè, qua riparo No Vettro dov'è? Vettro? Dove sei? E basta che sto pubblicizzando Ma mi hanno rotto Eccolo Io lo prendo nero Vabbè, sì, no, no Non è andrò normale Ecco, così Poi qua Blocco di corso Scusatemi Che sto andando in creativa Però io oggi Andando in creativa Però è l'unico Per fare così Bisogna Ci metto un anno A mettere a posto Dopo mi tocca scavare A profondità Poi devo spercare altro oro Guardate quanto l'oro ho trovato In un mese Senta da quattro blocchi d'oro E quarant'uno Dove sono le scale? Le scale, le scale, le scale, le scale Ecco, le scale Voglio Di questo collole Allora Vediamo se sono intelligenti Una dovrebbe stare così Sì Allora Facciamo così una cosa Un altro Dovrebbe stare così Vediamo questo Ho sbagliato Un altro Un altro E basta No, non grazie Un altro Deve stare così Qua deve essere aperto Qua deve essere aperto Qua devo fare tutti i tappeti Eh sì Dovrebbe stare così Duro da volo Faccio su questo Oh no Sbagliato Dove tocca? Perché a me mi piace Rosso e nero Ci stanno bene Ecco Tutto a posto qua Manca qua No No Eeeh Qua Togliamo questo Poi Qua nero Qua l'osso Nero Qua l'osso Qua nero Ho finito Questa pubblicità Ecco Basta Adesso Sono stufo No Aspetta Vi faccio vedere una cosa Qua stavo finendo Di fare questo Figa Vero Figa Vero Figo 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 Devo fare un'altra cosa Non ci sta più niente no cosa ho fatto ma dove la mettono a cassa è vero qua posso metterlo figo 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 non è vero perché l'ho preso dove è la cassa non trova la cassa dove la cassa non trova la cara eccola non è anche così chi si chiamate cosa posto sono bonzo ecco adesso possiamo ritornare la sopravvivenza così il meno principale adesso che non di grattino la sopravvivenza eccola eccoci diciamo in stamattu e basta guarda come sono figo adesso i pantaloni se non mi vedono le mutande mi vedono le mutande ecco adesso dove ecco prendo questo andiamo a lavorare ecco ora ci mettiamo un anno perché l'ho preso piccone dai prendiamo questo che è un po' scattino però ci può bastare dimmi che non c'è sabbia dimmi che non c'è sabbia uh non c'è sabbia ho quasi finito ho quasi finito eh ho trovato qualcosa qua cosa c'è qua cosa c'è qua cosa c'è qua cosa c'è qua mamma mia aiuto sta per scaricarsi no 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 veramente non puoi scaricare non puoi scaricare nooo facciamo così perché qua io volevo fare una cosa adesso ve lo dico adesso ve lo voglio fare prendiamo un po' un po' di rest un po' di queste e non di trallari poi prendiamo come si chiama dov'è eccole un tolce e andiamo a fare a fare la via sotto però mi serve un altro piccone se c'è un altro che non sia scarico ecco queste qua non sono scariche questo non è scarico questo non è scarico quanti piccone ho non mi ricordo di aver fatto così tanti ecco qua scaviamo un bocchetto come una toscia qua mettiamo cosa c'è qua allora mettiamo queste questo è questo questo figo ma non lo facciamo tanto lungo solo per piacere facciamo un bel allunga facciamo un bel allunga facciamo così a caso facciamo così a caso vediamo se funziona non c'è se lo è a bordo si però va lentissimo se lo è a bordo se lo è a bordo se lo è a bordo Poi lo devo sistemare, però devo sistemare poi, ahia, ahia, qua faccio un grosso buco Eh, mamma mia, si è distrutto, che spavento Poi ve lo dico, adesso voglio fare una tavola del Nether Nether, dove è? L'Ossidiana L'Ossidiana, dove è l'Ossidiana? Mi sembra che l'abbiamo visto L'Ossidiana, eccola Ma quanti dei blocchi sono fatti, l'Ossidiana? Non me lo ricordo Vabbè, intanto scendiamo, poi capiamo Ah, è vero, la torcia non stavo dimenticando La torcia, non che la torcia è nel fuoco, come si dice? Eccola Andiamo I, I Eeeh, ragazzi, ah, sono uscito, dopo un anno intero All'andaria, non ci provare Vai, tu vai là, vai là, vai Vai là, ecco, bravo, vai là Mmm, non mi ricordo esattamente quanti blocchi sono fatti Mmm Mmm, aspetta, faccio un po' di No, sei da buio Aiuto Allora Allora Ecco Dopo un anno intero ce l'abbiamo fatta Ma no, era giusto così, mamma mia, che scemo E' così Facciamo proprio Ecco Poi qua Si, poi Quanti blocchi? Quattro mi sembra Si, mi sembra di quattro Meno più Palle Ecco Andiamo almeno che così è meno giusto Aspetta Trovo questo Anche questo Dive che Si funziona Si funziona Va bene Trovo una via No Bravo Bravo Ma cosa ho sbagliato Ho preso, ho capito Ho capito Aspetta La torcia che non mi do niente Oh Adesso ci devo mettere un anno Ciao ragazzi Dopo un anno intero Ho scavato meno un blocco Sono mai vecchietto Oh Sono vecchietto ormai Devo salire Ecco Salgo Metto qua uno Qua l'altro Non dimmi che funziona Dai Così mi sembra che è giusto Eh ragazzi Includo tutte le dita Tre Due Uno Uno E' funzionato Fa un po' paura Vedere Sentire cosa muove Andiamo Quale sono? Guarda Oh Mi è venuta un'idea No ma lì È l'infinito Ma mi è spavento Quel rumore Oh Santo Ciao Non ho portato la spada Ero Torniamo C'è un lullano Oddio Mi ammazzano qua Mi ammazzano qua Sono morto raga Sono morto Sono morto Dai Dai No 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 Io No 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 Voi No Grazie.